Il Caffè Teatro a Samarate torna agli albori con grandi nomi, grandi personaggi. Sì, questa è stata una grande settimana, abbiamo appena avuto Max Angioni, poi adesso mercoledì arriverà Sergio Sgrilli, giovedì all'interno del laboratorio condotto da Daniele Araco ci saranno Ale Franz, venerdì invece ci sarà Milano 5.0 dove all'interno c'è Germano Lanzoni, il milanese imbruttito, sabato ci sarà Antonio Cornacchione con Carlo Fava e domenica si chiude con Nando Timoteo. Diciamo che il Caffè Teatro sta ritornando un po' quello che era, c'è tanti amici comici, vedete ad esempio Ale Franz, Max Angioni stesso, ritornano a riutilizzare quel palcoscenico come facevano una volta.